Allora, ho voluto... ho voluto comprare questo gioco perché sono un coglione e probabilmente questa notte non dormirò. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento! Non sei un combattente? Quindi, per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Monte Massimo, hai solo tre possibilità. Correre, nasconderti o morire. Sono due. Cos'erano? Non ho visto cosa... Complimenti per... eh sì, io vado in giro con la telecamera così, guarda. Aspetta che mi preparo e faccio come il giocatore, no? Come personaggio. Eccomi! Vado a scoprire le cose! Bello però, mi piace l'atmosfera. Sì sì, di là c'è Sauron. Queste sono le due torri. È chiarissimo, sono le due torri. Lì in fondo c'è Mordor. Va bene, i cancelli automatici hanno qui. Sì, comunque, di tutti i posti in cui potevano farlo, questo cazzo di ospedale psichiatrico, in mezzo ai lupi che urlano. Va bene, eh. Ah, password. Oh, madonna! Sono fatto paura. Che cosa è successo? Bellissimo. Potevo aggirarlo, ma saltarlo è più bello. Bellissimo. Ah, che bel vialetto. Proprio è un bel posticino. Per correre... Oh, questo volevo sapere. Con che animazione sto correndo, però? Sto masturbando delle persone invisibili. Ah, c'è il campanello. Ma scusa, mi son girato verso il campanello, quindi con l'orecchio verso la porta. Com'è possibile che sento lullullato da dentro? Cosa ci sono, i lupi? Pronto? Cosa sta succedendo? Cos'è? Io volevo suonare il campanello, no? Va bene. Entro? È chiuso, ovviamente. Bene, il gioco credo sia finito qui. Possiamo tornare indietro. Prendo uno di questi veicoli sfondo? No. Ovviamente non credo. Però sarebbe tutto chiuso. È un po' una troiata entrare... Ecco. Salvataggio vuol dire che sto andando nella direzione giusta. Oh, comunque ripeto che è molto bello come posto. Me ne tornerei a casa. Perché? Perché sta cambiando di colore? Eh, l'è chiusa anche questa. Per fortuna, perché non c'ho proprio voglia di entrare. Come quando ti devono fare gli scherzoni. È un video, non è una foto. E zoomano. Ok, basta. Ma perché devo saltare qui? Cioè, falla in automatico quel passo un po'... C'è qualcuno che ha fatto cadere dei bicchieri di plastica. Sì, sì, c'è uno con un sonnalino piccolino che sta facendo dei rumoroni. Adesso nebbio nella Dark Soul. Ok. Nel frattempo c'è uno che fa... A me fa... Eh no, però. Porco diazze, ste cose, no? Madonna, io non voglio sprecare la batteria. Ecco, per dirti, mi cago meno dosso andando in giro così. Non vedo una merda. Ma a me fa più paura il tipo che parla, eh, del... Sì, che poi... Su che cazzo di... Di ter... Ma cosa sono? In barca? Guarda come si muove. Tutto sto legno vecchio. No, questo deve essere... Papa Francesco prima... Di diventare Papa. Ok. Da posto? Belle le tende! Esce fuori qualcosa? No. Allora, voi mi state dicendo che questo posto è tutto abbandonato, tutto distrutto, tutto vecchio? Ah! Volevo proprio parlare di quella cazzo di televisione troppo nuova per questo posto. Che palle! Cioè, stavo dicendo, ma è possibile che abbiano uno schermo piatto in un posto così tutto merdoso? Vai, vai, vai. Mi fa paura quando tira la porta di scatto, perché sembra che ci sia qualcosa di brutto. Porco diaz, ma aprila bene la porta! Andiamo via, andiamo. Aspetta, eh? Ok. E chiudiamola. Ah! Ah! Non mi piace niente come si sta mettendo. Madonna, ma che mano terrificante che ho! Sono io il mostro! Che è che batte sul vetro? Ah, un albero. Ok. Lì c'è qualcosa. Ah, la batteria. No, adesso si spegne, occhio, eh. Arrivo sotto e si spegne. Ma porca, ma che ci sono delle... Ma no, ma c'era del... Ma! No, no, io dovrei entrare qui dentro, ma... Ah! Che poi c'è la gente col tamburello qua? Ah! Devo entrare? Aspetta. No, 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 no! Ho sbagliato. Fanculo. Ma dov'è sto telefono? Metti giù! Che palle! Ma... Io mi domando. Questo cazzo di imbecille non poteva entrare con una mazza da baseball a dare una saccagnata a qualunque cosa? Con ste mani... Va che mani orribili! È un anziano tutto brutto! Mamma mia, mi fa caccare! Va qua l'imp... Che schifo, senti... Ah, ma anch'io lascio improntazze di sangue. Eh, no! Porco diaz, cosa c'è qui dietro? No, eh. No, dai, non è possibile. No, è che è buio dappertutto, non mi allontano mai. Che palle! Eh, sinistra. Ah! Ah, ma si sta caccando sotto anche lui, sento, eh. Mamma mia. Eh, tutti in bagno, mi dicono. Ma non ci voglio andare, non voglio. E vado a destra. Qui ci sono le bibite. Ma che cazzo è quello lì? È il pene di Esprit, probabilmente. Ma che ma... Madonna! Mi cago dosso se mi metti questa cosa davanti. Dai, dai, apriamo. Senza guardare! Non ha aperto? Senza guardare! Ah, è chiusa. Ok. Dritto. È chiuso. E quindi bisogna andarci ad impastricciare qui. Ah. Ma, io mi chiedo, a questo punto... Parte il fatto che, no, col cazzo che entro in un posto del genere. No, col cazzo che entro in un sistema di aereazione così vecchio, pericolante, buio, sporco... Dove non posso assolutamente scappare o difendermi. Ma col cazzo! Vabbè. Vabbè. Sono entrato con gli occhi chiusi, mi ha urlato nelle orecchie e mi son cagato addosso lo stesso. Porco diaz, no. Ma non c'è niente! Basta sta musica, levala! Che mi cago sotto di più. Che palle! Cos'è quella roba lì? Ah! Che merda è! No, no, no. Ma che cazzo mi è venuto in mente? No, 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 no. Via, 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 via. Via, 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 fuori dalle balle. Fuori dalle balle, su. Ma cosa, up? Fuori dalle balle, fuori dalle balle. No, 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 no. No, 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 no. Eh, sì, 200 ce ne sono. Ma c'è una collezione di zucche qui. Merda. Ma tua mamma troia. Ma va a far culo va. Sì. Ah, mi ha fatto paura. Sto facendo una live, scusa. Chiedo scusa. Mi hanno appena detto su perché... Perché sto facendo casino. Ho anche la telecamera già mezza... Non ci credo. No, no, col cazzo che ci vado lì. Eh, vabbè. È chiuso. Per fortuna. E' chi è tu, allora? Nuovo obiettivo, fuggi dal manicomio. Ma porco du... Cioè... Ma non entrarci. Testa di cazzo. Ma guardate... Ma do, io non voglio andare avanti, però... Che cazzo è successo? Ho visto una roba muoversi. Boh. Visto. C'è niente. Mi interessa. No, 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 no. Perché tutti sti suoni strani che uno si caga addosso di più? Security room è di qua. È di qua. La butto lì. Quello pelato gli stava sul cazzo. Io devo entrare qui. Non ho letto. Ti pareva, mi tocca esplorare. Qui ci sarà sicuramente qualcosa di... Un mocio, no. Bene, non era di qualche dove andare. Mamma mia, mi sto caccando sotto qui. Beh, arrivederci. Wau, cazzo!